In questo tutorial vediamo degli esempi di problemi numerici risolubili con le disequazioni di secondo grado. Partiamo da questo primo esempio. La differenza tra 4 e il triplo di un numero è maggiore del quadrato del numero stesso. Determina quale intervallo deve appartenere il numero. Per risolvere questo esercizio indichiamo con x i numeri che verificano questa proprietà. Ora scriviamo questa proprietà sotto forma di disequazione. La differenza tra 4 è il triplo di un numero e allora scrivo 4 meno il triplo di un numero, ossia 3x. Questa quantità risulta essere maggiore, e allora scrivo maggiore, del quadrato del numero stesso e allora vado a scrivere x alla seconda. Una volta che ho impostato la disequazione la vado a risolvere. Porto x alla seconda primo membro ed ottengo meno x alla seconda meno 3x più 4 maggiore di zero. Osservo che il coefficiente di x quadro risulta essere negativo e allora moltiplico tutte e due membri per meno 1. x alla seconda più 3x meno 4 e da maggiore scrivo minore di zero. Ora che ho la disequazione scritta in forma canonica e il coefficiente di x quadro positivo passa all'equazione associata x alla seconda più 3x meno 4 uguale 0. Vado ora a risolvere questa equazione applicando la formula risolutiva x uguale meno b, ossia meno 3 più o meno radice quadrata di b alla seconda, 3 alla seconda ed ottengo 9 e poi meno 4 per 1 per meno 4 ottengo più 16, tutto quanto fratto 2a. a è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 9 più 16 è pari a 25, cancello e scrivo 25 uguale meno 3 più o meno, la radice di 25 risulta essere 5, tutto quanto fratto 2. Separo ora le due soluzioni. Meno 3 più 5 ottengo 2, diviso 2 e scrivo 1. Meno 3 meno 5 ottengo meno 8, diviso 2 ed ottengo meno 4. Avendo ottenuto due soluzioni significa che la parabola associata all'equazione taglia all'asse delle x in due punti. Il primo punto di ascissa pari a meno 4, il secondo punto di ascissa pari a 1. Effetto ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di meno 4 e per valori maggiori di 1 la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un meno. In corrispondenza di meno 4 e di 1 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Ora torno alla disequazione che precede l'equazione associata e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Nello studio del segno il minore di 0 lo vedo tra meno 4 e 1. E allora come risposta scrivo x tra meno 4 e 1. Tutti i numeri che si trovano in questo intervallo verificano la proprietà del problema. Passiamo a questo secondo esempio. La somma del quadrato di un numero reale x con il doppio del numero stesso non supera 15. A quale intervallo deve appartenere x? Per risolvere questo esercizio traduciamo in disequazione questa proprietà. Dobbiamo scrivere il quadrato di un numero, ossia x al quadrato, e a questa quantità dobbiamo sommare il doppio del numero stesso e quindi scrivo più 2x. Tutto quanto non supera 15. Questo significa che questa quantità dovrà essere minore o uguale a 15. Abbiamo così una disequazione che andiamo a risolvere. Come prima cosa portiamo 15 a primo membro x alla seconda più 2x meno 15 minore o uguale di 0. La disequazione è scritta in forma canonica, il coefficiente di x quadro è positivo e allora passiamo all'equazione associata x alla seconda più 2x meno 15 uguale 0. Applichiamo ora la formula risolutiva x uguale meno b, ossia meno 2, più o meno radice quadrata di b alla seconda, 2 alla seconda ed ottengo 4 e poi meno 4 per 1 per meno 15 ottengo più 60. Tutto quanto fratto 2a. a è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 4 più 60 è pari a 64 e allora cancello e scrivo 64 uguale meno 2 più o meno la radice di 64 è 8, tutto quanto fratto 2. Separo ora le due soluzioni. Meno 2 più 8 è pari a 6, diviso 2 ed ottengo 3, meno 2 meno 8 è pari a meno 10, diviso 2 ed ottengo meno 5. Avendo ottenuto due soluzioni significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in due punti. Il primo punto di ascissa pari a meno 5, il secondo punto di ascissa pari a 3. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di meno 5 e per valori maggiori di 3 la parabola è al di sopra dell'asse delle x e allora metto un più. Tra meno 5 e 3 la parabola è al di sotto dell'asse delle x e allora metto un meno. In corrispondenza di meno 5 e di 3 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno alla disequazione che precede l'equazione associata. Fisso l'attenzione su questo passaggio e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore o uguale a 0. Nello studio del segno il minore di 0 lo vedo tra meno 5 e 3, l'uguale a 0 in corrispondenza di meno 5 e in corrispondenza di 3. E allora come soluzione scrivo x compreso uguale tra meno 5 e 3. Vediamo quest'ultimo esempio. La somma del doppio di un numero reale x con 3 supera il quadrato del numero stesso. A quale intervallo deve appartenere x? Traduciamo in disequazione questa proprietà. Dobbiamo sommare il doppio di un numero reale e allora devo scrivere 2x più e a questa quantità dobbiamo aggiungere 3. Complessivamente 2x più 3 supera e allora devo scrivere maggiore il quadrato del numero stesso e allora scrivo x alla seconda. Ho così una disequazione di secondo grado che vado a risolvere. Come prima cosa porto x alla seconda primo membro e scrivo meno x alla seconda più 2x più 3 maggiore di 0. Osservo che il coefficiente di x quadro è negativo e allora moltiplico tutte e due i membri per meno 1. x alla seconda meno 2x meno 3 minore di 0. Passo ora l'equazione associata. x alla seconda meno 2x meno 3 uguale 0 ed applico la formula risolutiva. x uguale meno b ossia meno meno 2 e scrivo 2 più o meno radice quadrata di b alla seconda meno 2 alla seconda ed ottengo 4 e poi meno 4 per 1 per meno 3 ottengo più 12 tutto quanto fratto 2a. a è pari a 1 e allora scrivo fratto 2. 4 più 12 è pari a 16 e allora cancello e scrivo 16 uguale 2 più o meno la radice di 16 è pari a 4 fratto 2. Separo ora le due soluzioni. 2 più 4 ottengo 6 diviso 2 e scrivo 3. 2 meno 4 ottengo meno 2 diviso 2 e scrivo meno 1. Avendo ottenuto due soluzioni significa che la parabola associata all'equazione taglia l'asse delle x in due punti. Il primo punto di ascissa pari a meno 1, il secondo punto di ascissa pari a 3. Effettuo ora lo studio del segno della parabola. Per valori minori di meno 1 e per valori maggiori di 3 la parabola è al di sopra dell'asse delle x e metto un più. Tra meno 1 e 3 la parabola è al di sotto dell'asse delle x e allora metto un meno in corrispondenza di meno 1 e di 3 metto un uguale a 0 per indicare che l'ordinata della parabola è nulla. Torno ora alla disequazione che precede l'equazione associata e vado a vedere qual è la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore di 0. Nello studio del segno il minore di 0 lo vedo tra meno 1 e 3 e allora come soluzione scrivo x compreso tra meno 1 e 3 e con questo termino il tutorial su esempi di problemi numerici risolubili con le disequazioni di secondo grado. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.